bella a tutti ragazzi io sono alfawolf e siamo con Jeff nel quarto episodio di mcsg volevamo dirvi anzi volevamo scusarci per l'assenza di video soltanto che abbiamo cambiato la disposizione degli orari dei video e dei giorni per evitarli proprio per evitare assenza di video quindi usciranno lunedì mercoledì e venerdì e niente e poi sei domenica e poi sei domenica quindi avrete due video attaccati e quindi good per scusarci abbiamo messo i video che sono molto così non ci faranno fare più questi errori saranno sempre video sul nostro canale comunque siamo molto contenti per essere arrivati al traguardo ai 12 iscriviti sono tanti per noi e allora non so ah e vogliamo dire una cosa molto importante che spero che vi piaccia 30 iscritti lasceremo una texture che stiamo facendo insieme a un nostro amico news e quindi a 30 iscritti la rilasceremo la rilasceremo devo dire è molto carina proprio per pvp è molto è fatta bene proprio per pvp mi consiglio che scaricarlo poi su quando arriveremo 30 iscritti la rostro usando adesso perché ancora da segnali gira quindi ma fatto un po' cazzo di gara cazzo di gara cazzo di gara bello 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 e niente ah si e dal prossimo video molto probabilmente uscirà uscirà l'episodio di minigames quindi good for you e niente e niente cazzo vabbè allora siamo e si male perchè c'è niente e dopo avervi detto queste news molto news cominciamo la a fumaci tutti i player cazzo io mi sto ammazzando eh pure io credo non fa l'arte c'ho già un cobi cazzo buongiorno caro su pochettino che ha detto non direi però non mi ha buttato non mi ha buttato mamma mia questa allora non troviamo nessuno come mai questa mafia comunque nei commenti iscriveteci quando se volete un'altra challenge se vi è piaciuta e cazzo c'è un team da due qua sotto e aspetta un attimo che arrivo no aspetta anche cazzo sbrigate mangio un panino con una furferro l'altro pure la prosciutto aspetta ci metto dentro la nutella anzi il prosciutto oddio veramente una armellata oh oh corri corri in dietri no non va vieni a fare il video dietri in dietri no ma tagli ancora e mezzo però eh a me chissà quanto mi leva con una pisellata me la 5 vuol quanti d'acchiare di armor? 4 5 e mezzo 4 no no meglio di no ecco grandissimo lupo no non scappa 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 è morto eri morto corrigori ricordi ricordi oh my godness cosa ho fatto non ho mai inizio di rialzo totale cosa ho fatto madonna mia io ho fatto oddio non c'ho tanti live ma quella è tardo non ti colpiva cosa io ho fatto ci sei rimasto drammatizzato questi devastati era uno schifo non vero con me per favore no butta la spada nello schifo aggis al cuore madonna mia uno ma aspettavo detto oddio voce morirò no mi sento tutto 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 distrutti andiamo o madonna siamo ripresi la partita che era nostra allora posso fare spada in diamant e una spada in ferro per te good good la cellino allora allora per amostrucca sopporto anzi si ho un'idea scrivete anche nei commenti i minigames che volete che vorreste no sai ci avevo un'idea no dire se va bene sotto i commenti che andiamo su questo su un server presenti quei server dove ci stanno tanti minigames appresso ah ho capito eh facciamoti voi 10 minuti disti di minigames ok no quindi diselo anche voi se vi va bene e non lo faremo noi saldiamo i desideri così vedete tutti i minigames e poi quando vi sa avesse a piaciuto uno in particolare faremo quello basta di che ce lo dite non sappiamo si vedete la varia gamma di minigames si gireremo anche vari server così no non ancora non ci crede da aver fattuati vedete del cibo perché se ce l'ha diamante eh no c'ho una freccia nell'invento si ok senti il cibo dai che ti abbiamo chiudere il video dove siete siamo in 10 vabbè sarà un video molto lungo vabbè va bene no fa male vabbè lo vediamo allora tanto so sono molto intenso i partite lunghe giusto eh ecco chi è che fa rumore col microfono chissà fa casino il microfono si cribbio aspetta un attimo smudo e mi rimuto problemi tecnici ok adesso va meglio no aspetta un attimo aspetta aspetta mamma mia chi poter che casino chi è qualmona ok adesso no va meglio no di desideri non va meglio no come risalgo no no che hai fatto no 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 sei in cane aspetta un attimo non si sente bene no scrivi a qualcuno su skype se ti sponsorizziamo qualcosa a skype aspetta però mi dico mi devi dire se qualcuno è capito no momenti momenti ecco è urgente è urgente è urgente oh dio l'ho scritto non lo so frigati subito chiunque tu sia gli scrivi subito subito dai dici non appunti sai che gli sverli perchè ho fatto il salto della fede Jeff che dai che siamo i 5 dai che finisci la partita ma ti sente male adesso il microfono no ti prego mi sponsorizza in underpearl chiunque tu sia dai perchè non vieni dai che devo dire la partita sono stupido pure dai diciannone 60 diciannone 60 diciannone 60 diciannone subito donne è arrivata da rodino dai chi è spettatore non so non mi interessa no no è uscito aiuto ti prego no ce la faremo uscire da lì no n'entro uscire da lì spingimi vuole no no c'è un po' lì sentimentato è lì no 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 vaci 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 cosa è per forza tanto non è entrato bene la fece ciao come fa dunque tanto poi ci proviamo la carichiamo stessa pure se perdiamo perché abbiamo detto tutto è nuovo e questa cosa è importante mi ha dato addosso tipo tutto 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 alu akbar alu akbar oh enderpearl enderpearl entrato con un enderpearl mortali di loro distrutto non serve prender per fermo non messo il primo bloccato il pubblico dei tempi ragazze i ragazzi la partita dei bloccati o basta tutta cosa ma riprendi che è stato gg 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 mi ha sponsorizzato qualcosa sta arrivando no e però c'è sta arrivando un corno perché sono bloccato dentro una celletta sono carcerato io so come sbloccarti però non si può uscire no che è sta gente che vedo davanti allora facciamo adattere poi si fa così guardate così si esce cacana la pesca ci posso scommettare ma questo è tipo calea che a pugni o credibio no 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 il cattivo c'è una freccia appena spiegato aia ma lox ma che te i cattivi scappa 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 ma è nabbissimo poi io metto pure acciarinata se ci riesco da lì ecce ti metto acciarinata oh ok 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 c'ho altri cuore mentre mangio ho messo la freccia sto cagnolino da strabazzo trent buch ma voi uso sui milano 5 fredda e da me in ciccio noccio tipo o fai una cerino un'altra cosa una cerina un'altra cosa un'altra cosa è una cosa è una cosa un'altra cosa si non ho un'altra cosa non ho un'altra cosa ma guardalo eh oh no c'è sta tattica la cerina mettilo ma dai non mi ha messo che ho messo mi piace ah mi sono pagato vabbè maria io esco gg allora ragazzi se questo video vi sia piaciuto iscrivetevi commentate e lasciate un like ciao e la ciao ciao ciao